Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo ed ultimo webinar Fiesta Mexicana, Mexico desconosido alla scoperta del Messico più autentico, realizzato per il 2018 da Quarra Travel in collaborazione con Visit Mexico. Siamo lieti oggi di avere con noi per l'introduzione Sarina Alvarez, direttrice per l'Italia di Visit Mexico. Passeremo poi la parola a Gianluca Sposito, General Manager Quarra Travel. Buongiorno Sarina, prego. Sarina non è più connessa. Scusate. Le bellezze della diretta. Intanto buongiorno a tutti da parte mia, sono Gianluca di Conrad Travel, grazie a tutti i partecipanti e adesso risolviamo questo piccolo problema tecnico e facciamo parlare Sarina come da programma. Eccola. Mi piacere poter salutarvi e vi ringrazio per la vostra partecipazione e per l'interesse in conoscere di più quello che è il mondo messicano. Oggi insieme a un gran partner con la tradizione specialista del Messico, presenteremo quello che il Messico è capace di offrire ai grandi viaggiatori. Gianluca Sposito vi parlerà con le immagini degli stati del Messico meno conosciuti rispetto a quello che il mondo maya è, ma anche quanto belli, i quali hanno un gran potenziale nel mercato italiano. Sto parlando degli stati di Oaxaca, di Puebla e della bellissima vasta California. Prima di lasciarvi avanti a Luca, vi mostriamo il nostro bellissimo video istituzionale. Un caro saluto a tutti e nuovamente grazie. ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. La questione è... Mexico, a world of its own. Mexico, a world of its own. Buongiorno Gianluca, prego. Buongiorno a tutti, sono Gianluca di Conrad Travel, grazie a tutti per essere presenti qui con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per il primo appuntamento che era nell'ormai lontano 20 giugno. E quindi vogliono completare il loro corso di formazione online con il turismo del Messico e Conrad Travel. Grazie soprattutto per le bellissime parole di Sarina, ma soprattutto per la sua collaborazione continua insieme a noi per promuovere quello che noi chianiamo da sempre, il Messico autentico. La scorsa settimana abbiamo realizzato una splendida serata sulla Baja California insieme a Sarina e soprattutto ospiti della più bella location di Roma, cioè l'ambasciata del Messico nella zona di Via Nomentana a Roma. È stata una serata straordinaria sia per la bellezza e la ricchezza della presentazione che è stata fatta, era presente il nostro corrispondente in loco, ma anche e soprattutto appunto per la location e per l'accoglienza che Sarina e tutta l'ambasciata del Messico ci ha riservato. È stata una roba memorabile e speriamo di farne altre ovviamente. Bene, io a questo punto inizierei subito con gli argomenti perché abbiamo veramente tantissima carne al fuoco per oggi. Completeremo il nostro excursus in quello che individuiamo come Messico autentico, concentrandoci su alcune destinazioni veramente uniche e particolari se vogliamo, soprattutto alternativi a quello che già tutti bene o male conosciamo e che tutti bene o male riusciamo a proporre ai nostri clienti. Devi andare con le frecce. Sto andando con le frecce ma eccoci qui, perfetto. Si era bloccata la mia freccia. Presento il nostro tour operator, lo faccio sempre perché è ripetito a Juvent, come mi insegnavano al liceo. Da ormai quasi 20 anni, direi, nel 2020 faremo 20 anni, Coral Travel e tour operator specializzato in tutte le destinazioni del continente americano. Quindi Nord America, Messico ovviamente, Centro America, America Latina e le ovvie estensioni. Quest'anno siamo stati in maniera insospettabile e assolutamente sorprendente candidati da voi agenti di viaggi come miglior tour operator per specializzazione del prodotto di viaggi su misura e questo ci ha reso molto molto contenti e orgogliosi. Non abbiamo vinto ma non fa assolutamente nulla. Ciò vuol dire che tutti voi, la maggioranza di voi, ci considerate un punto di riferimento per il continente americano dal Nord al Sud e questo ci riempie veramente di grande soddisfazione. Cosa facciamo? Facciamo esclusivamente viaggi su misura e l'argomento di oggi proprio lo esporrà in maniera più chiara possibile e naturalmente per fare questo la massima flessibilità, la massima velocità di risposta e puntare esclusivamente, come abbiamo sempre fatto, sulla soluzione di voli di linea. Io sto cliccando sulle frecce Sto cliccando sulle frecce Prova ora Chiedo scusa Sto andando giù proprio Ecco Eccomi qui Sono Gianluca Mi conoscete moltissimo e vi conoscono Questa foto è stata presa in uno dei miei viaggi un pochino di tempo fa proprio in Bala California di cui parleremo abbondantemente oggi Questo è l'Hotel California e poi vi spiegherò alcuni piccoli segreti proprio sull'Hotel California Noi siamo a Roma, questi sono i nostri contatti che ripeteremo poi al termine della nostra presentazione Ecco, questa è una delle cose più importanti Vedere la cartina Per rendersi conto che quello che noi vediamo del Messico è ben poco è quello che posso indicare in questa zona cioè la zona dello Yucatan è sicuramente la parte più visitata vuoi per la vicinanza geografica maggiore verso l'Europa e vuoi anche per le straordinarie bellezze e attrazioni archeologiche naturalistiche spiaggi meravigliose che la regione offre ma naturalmente quello è una piccolissima parte di questo straordinario magnifico paese che non viene visitato nella sua interezza è soprattutto uno dei paesi più indicati per i repeaters per le persone che vogliono approfittare della loro già parziale conoscenza della destinazione è estenderla e vedere cose completamente nuove Il Messico offre almeno 10 viaggi completamente diversi uno dall'altro come vedremo appunto, per esempio, oggi delle varie cose Che cosa è il nostro Messico autentico? È basato ovviamente su oltre 30 anni di esperienza professionale sulla destinazione Chiunque compone il staff di Conrad Travel ha un'esperienza lunghissima e molto approfondita sulla destinazione Messico Noi nasciamo nel 1998 come rappresentanti del nostro corrispondente, del nostro DMC e quindi abbiamo sempre avuto quel background di DMC che ci portiamo avanti come tour operator per tutte le nostre destinazioni La relazione con il nostro DMC è sempre più forte, Florida e quindi contiamo su una nostra propria struttura ricettiva una centrale generale che è vicino a Città del Messico nella magnifica città di Quarnavaca 8 uffici sparsi nel territorio del Messico per coordinare e fornire servizi e uno ovviamente in Guatemala per i combinati o per i viaggi unici su Guatemala Naturalmente, come dicevo, assolutamente viaggi rigorosamente su misura Su misura cosa vuol dire? Che Conrad Travel per quanto riguarda il Messico che tutti voi bene o male avete nel tempo proposto con i classici tour a partenze garantite beh, potete mettere da parte questa idea perché con Conrad Travel si parte minimo due passeggeri tutti i giorni dell'anno nella stragrande maggioranza delle destinazioni messicane soprattutto quelle più turistiche quello è il percorso più turistico, il famoso Mundo Maya che parte da Città del Messico e si completa a Cancun oppure nelle varie estensioni balneari disponibili Lavoriamo esclusivamente con voli di linea e non abbiamo, anzi combattiamo con tutta la possibile forza il concetto che il Messico sia esclusivamente una destinazione balneare è una delle più grandi ingiustizie e io proprio l'altra sera durante la serata a Bala California la definivo una dei crimini contro l'umanità turistica più grandi che si siano mai sentiti perché il Messico ha tutto questo da offrire in primis il Messico è una delle destinazioni più importanti del pianeta dal punto di vista turistico Tucur, punto offre tra le migliaia di cose 5.000 anni di storia dalle prime culture precolombiane ai giorni nostri una delle destinazioni più ricche variegate e sorprendenti dal punto di vista naturale del pianeta dal punto di vista archeologico praticamente nei primi top 3 del mondo dal punto di vista culturale è una destinazione top naturalmente in tutti i sensi per cultura non intendo soltanto le culture passate ma anche le culture vive, vere che ancora adesso permeano la società permeano la realtà e sono possibili da sentire tattilmente dai vostri passeggeri le sue vestigia coloniali sono qualcosa di sorprendente e assolutamente affascinante molte di queste città ovviamente sono patrimonio UNESCO diciamo che il Messico in generale è un posto UNESCO proprio uno dei posti più importanti delle nazioni più importanti dal punto di vista UNESCO la ricchezza, la straordinaria fascino dei pueblos machicos che vedremo nel corso della nostra presentazione come vi dicevo le culture vive quindi non culture passate da centinaia di anni ma culture vive, vibranti, vere tuttora tramandate tuttora lingue, tuttora parlate usi e customi tuttora attivi nella società nel tessuto sociale delle varie comunità la possibilità quindi di fare ecoturismo delle comunità oltre che ovviamente ecoturismo data delle ricchezze naturali straordinarie e anche la possibilità di contribuire allo sviluppo al mantenimento di queste realtà culturali fortissime con il turismo solidale per quanto rimanda il mare non solo ovviamente Riviera Maya ma tantissime altre destinazioni alcune delle quali abbiamo già visto nel corso della prima presentazione del 20 di giugno adesso amplieremo il discorso soprattutto con un paio di zone in poche parole una destinazione totalmente da repeaters esattamente come è per esempio il vicino confinante Stati Uniti d'America impossibile pensare che un vostro passeggero dica sono stato in America quando è stato solo a New York la stessa cosa si può tranquillamente applicare al Messico è impossibile dire sono stato in Messico se siete state solo Riviera Maya soprattutto magari un villaggio a gestione europea o italiana chiusi là dentro non si è visto assolutamente un fico secco di questo che questo incredibile paese può offrire da cosa si compone tecnicamente il nostro Messico autentico? sono tour guidati a partenze rigorosamente individuali giornaliere sul nostro sito sul catalogo non troverete una data di partenza perché non ne abbiamo ne abbiamo soltanto quando decidiamo o proviamo a lanciare delle proposte di groupage per esempio per capodanno piuttosto che per l'estate o per altri eventi come abbiamo fatto e vi ne parlerò appunto ve ne avevo già parlato il 20 di giugno per la festa dei morti proprio tra poche settimane ovviamente i fly and drive l'offerta è grandissima tutti flessibili e personalizzabili la possibilità di fare delle esperienze in treno straordinari come il treno del nord di cui parleremo proprio oggi soggiorni balneari dappertutto e le varie soluzioni di ecoturismo e turismo solidale altro motivo imprescindibile per la nostra visita del Messico del vero Messico è la scoperta della cucina messicana che è diventata da pochi anni patrimonio e materiale dell'umanità ed è una cucina messicana dire soltanto la parola messicana è uno simoro perché esistono esattamente come in Italia le cucine regionali dal nord al sud si mangia con la stessa differenza che ci può essere tra il nord Italia e il sud Italia proprio gli ingredienti sono differenti l'approccio è differente le preparazioni sono completamente differenti quindi tutto un mondo da scoprire e io adoro scoprirlo come ho già mostrato proprio l'altra sera praticamente spazzandomi via un quarto del buffet disponibile chiedo scusa a tutti ecco il nostro punto revralgico di partenza di arrivo e da qui si parte dappertutto città del Messico una delle metropoli più vibranti più variegate più ricche più interessanti intriganti adesso di tutto il mondo latino americano e oltretutto sublimata proprio queste settimane da un magnifico film di Alfonso Cuaron che ha vinto Leone d'Oro alla mostra di Venezia che si chiama Roma Roma è il quartiere è la colonia il quartiere della città del Messico di cui è ambientato questo film che vi invito tutti a dare a vedere quando uscirà tra poco nelle sale e da qui si parte per andare dappertutto sia verso le zone più turistiche dell'est che per le zone meno turistiche meno conosciute che dobbiamo far diventare più turistiche insieme proprio di quello di cui parleremo oggi sono cinque diversi itinerari che ho preferito ho selezionato tra i nostri tra cui uno nuovissimo fiammante straordinario che vi presenterò proprio adesso come il primo eccolo qua ci addentriamo in una zona veramente sconosciuta che è lo stato di Sonora lo stato più a nord ovest del paese che praticamente termina nel mar di Cortez nel golfo di California che vedete qui in questa cartina e che ed è in assoluto probabilmente la regione meno visitata del Messico soprattutto dal turismo nord europeo questa è una chicca che ha trovato la nostra Michela che ha partecipato all'ultima fiera Tiangis a Mazatlan grazie all'invito ovviamente del turismo del Messico in Italia e lei si è immediatamente appassionata a questa idea quando è tornata ce l'ha presentato abbiamo completato l'itinerario insieme ai nostri specialisti della regione e abbiamo un grande piacere di presentarvelo per la prima volta adesso questa partenza abbiamo fatto la quotazione in base a 4 passeggeri è anche disponibile farlo in 2 soli passeggeri ma naturalmente a un prezzo più alto invece con 4 passeggeri il prezzo è totalmente accettabile soprattutto rispetto al fatto di quello che si va a vedere si atterra con un comodissimo volo interno da città del Messico a Ermosigno che è la capitale dello stato di Sonora questa è la foto che vedete è la cattedrale della Nuestra Signora dell'Ansulzion che è un po' il simbolo della città si prosegue via terra addentrandoci una delle prime e più affascinanti meraviglie di questo itinerario che è la cosiddetta Ruta della Smisiones ne esistono tante di Ruta della Smisiones in Messico questa è molto particolare perché è tutta la zona diciamo così evangelizzata da una figura leggendaria come quella di Chino questa è proprio la foto di Magdalena di Chino la chiesa bianca è appunto il missionario gesuita Eusebio Francisco Chino che contribuì a evangelizzare la regione tutta questa regione nelle prime appunto nelle zone tra Sonora quello che noi adesso chiamiamo Arizona e la California proprio diciamo a cavallo dei secoli XVII e XVIII è un patrimonio storico inestimabile ovviamente protetto dall'UNESCO come non può essere altro altre tappe che faremo nel corso di questo percorso è visitare altri pueblos con le loro missioni come Caborca e Pitiquito qui le vedete ecco questa è proprio la vignetta dell'eroica Caborca di Sonora del Messico la perla del deserto questa è la chiesa della purissima concepzione di Nuestra Signora de Caborca che è una delle attrazioni principali della regione e soprattutto un degli esempi più fulgidi proprio dell'architettura tipica della Smisiones così come vengono chiamate si prosegue verso una delle meraviglie assolute dal punto di vista naturalistico non solo della regione ma di tutto il Messico questo paesaggio lunare che è la riserva della biosfera di Pinacate diventata anche questa disegnata patrimonio dell'UNESCO qualche anno fa e con il gran deserto di Altar che qui vedete è una delle zone naturalistiche più incredibili che si possono trovare in tutto il Messico questo è il grandissimo cratere è vicino appunto al serro di Panacate ed è anche oltretutto una zona di grande importanza dal punto di vista dell'astro dello studio non solo ma proprio della 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 formazione degli astronauti che qui vengono formati perché trovano delle particolari condizioni ideali per la loro formazione in quello che troveranno nello spazio è un po' la zona diciamo del Messico che viene paragonata al grande meteor crater che si trova invece in Arizona anche esso utilizzatissimo dalla NASA soprattutto qualche anno fa per la formazione dei propri astronauti ecco alcuni dei paesaggi del grande deserto d'altar con i suoi cactus a vista d'occhio e infiniti a vista d'occhio le grandi lune di sabbia dove si farà oltretutto un breve trekking fantastico soprattutto per gli appassionati di fotografia altra foto del deserto di Sonora è tutto il deserto di Altar e in questo pernottamento visto che non ci sono zone turistiche vicine si dorme in campamento in questa foto che vedete è proprio una foto dei campamentos e si cena intorno a Falò si osservano naturalmente gli astri la notte c'è una vista incredibile degli astri e la nostra guida ci spiegherà moltissime cose dal punto di vista paesaggistica naturalistica ma anche astronomiche della regione è una due giorni di immersione in questo patrimonio dell'umanità naturalistico veramente irripetibile poi terminata la scoperta della zona del deserto si arriva a Puerto Pegnasco che è la zona diciamo marittima della regione questo è sempre si parla del Golfo della California quello che comunemente chiamiamo Mar de Cortez la parte più a nord come vedete Puerto Pegnasco è nato come sviluppo turistico ma non è grandemente sviluppato e ha questa spiaggia infinita fatta a ferro di cavallo che è ideale per lunghissime passeggiate e per bagni favolosi ecco altra foto appunto di Puerto Pegnasco con il nostro hotel che utilizzeremo per l'overnight in questa zona non lasceremo la zona di Puerto Pegnasco prima di aver esplorato le dunas di San Nicolás una delle attrattive naturalistiche di tutta questa regione e soprattutto per chi vuole l'opportunità di fare questo appunto il surfboarding il sandboarding scusate fare un po' di surf sulle dune e scendere giù per gli appassionati o per chi se la sente io l'ho provato in un'altra regione del mondo e devo dire che miracolosamente l'ho fatto pure con diciamo decenza si prosegue in direzione sud per raggiungere la zona di Baia Chino altra Baia favolosa fantastica che ricorda tantissimo le Baie della Baia California come Baia Concepcion guardate questa foto grande veramente esemplificativa di quello che andiamo a trovare ed è una delle considerate che questa spiaggia è considerata dal National Geographic come la migliore vista dell'oceano di tutto il mondo ecco questo è stato insomma il premio che ha vinto dagli esperti di National Geographic ovviamente girano tutto il pianeta si farà oltretutto una mini crocella al tramonto per ammirare tutta la spiaggia e tutto il deserto dal mare che è insomma una cosa veramente suggestiva ma altra cosa importantissima della zona di Baia Chino è il contatto diretto e la scoperta di questa cultura millenaria completamente separata dal resto dalle altre e diciamo puramente veramente in via di estinzione che è la cultura dei seri l'etnia seri che proprio nasce la sua origine in questa isola qui che vedete che è Isla Tiburon che è la terra sacra in assoluto per quelle della nazione seri e quindi è una riserva ecologica che esploreremo in una breve escursione in barca e avremo un contatto diretto con questa straordinaria etnia con le loro tradizioni con i loro usi naturalmente parlano totale bilinguismo quindi parlano spagnolo e la loro lingua originaria ed è una delle etnie oltretutto più produttive dal punto di vista di creatività artistica e artigianale questo è un grande vaso che hanno regalato naturalmente c'è la possibilità di acquistarne di più piccoli e portatili pitture facciali e ripeto la produzione artigianale è veramente veramente affascinante e come vedete questa è una cosa veramente unica assolutamente unica che si può fare solo in questa regione si scende ancora di più si va verso sud e si raggiunge la zona di Puerto San Carlos altra baia veramente straordinaria mare stupendo acque normalmente caldissime vista mozzafiato su tutta la baia e la possibilità di scoprire un'altra etnia veramente molto affascinante e ripeto molto più molto separata dal resto delle altre quindi molto differente da tutte le altre etnie che normalmente con cui si entra in contatto in un viaggio tradizionale nel Messico questi sono gli yaki e questa è la danza del venado una delle danze tipiche dell'etnia della comunità questa è la loro bandiera che trovate un po' dappertutto in questa zona ed è una delle dei contatti diciamo più interessanti più 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 unici che si fa in questo viaggio si visita quattro pueblos che sono stati fondati dai gesuiti durante l'opera di colonizzazione nel XVII secolo è una delle tribù oltretutto più mistiche più visionarie se vogliamo di tutta la zona nord ovest del Messico e oltretutto ha una storia molto particolare perché questa etnia non è mai stata conquistata dagli spagnoli ma venne ridotta in concentramento dal governo messicano proprio per questioni di governo del territorio una storia molto molto triste che viene raccontata e dettagliata proprio durante l'incontro con la comunità e si prosegue poi per la scoperta di uno dei pueblos machicos più magici in assoluto di tutto il Messico che è Alamos l'antica capitale della provincia dell'Occidente fu fondata dai spagnoli sempre nel XVII secolo e naturalmente è così ricca e florida perché lì vicino come sempre in tutta la zona coloniale messicana c'erano i giacimenti d'argento e quindi questo ha creato una ricchezza fantasmagorica che veniva concretizzata in questi palazzi in questi edifici in queste casonas nelle chiese nei teatri donando all'umanità soprattutto a noi che viviamo nel nostro tempo un retaggio di vestigia coloniali unico e ripetibile e poi dopo la visita di Alamos di uno di questi più segreti pueblos di tutto il Messico si termina la nostra esperienza di viaggio a Ciudad Obregon che è la città in cui appunto il nostro itinerario termina a Ciudad Obregon faremo una visita diciamo molto interessante perché questa zona del Messico la cultura di liquore è l'aguardiente e in questa zona c'è una delle distillerie più grandi di tutto il Messico che si chiama la Pasadita che viene visitata ovviamente nel nostro viaggio e al decimo giorno da Ciudad Obregon si ritorna direttamente in Europa o in Italia oppure si prosegue per una estensione balneare quello che poi ne parleremo più avanti il secondo viaggio il secondo viaggio è il nostro oramai storico perché lo proponiamo da qualche anno e ogni anno riusciamo a venderlo e ogni anno diciamo a vendere un po' di più che è il destino Oaxaca cioè la scoperta del territorio centro-sud del paese da città del Messico attraverso lo stato di Puebla fino a tutta la scoperta dello stato di Oaxaca uno sono due dagli stati più intriganti più affascinanti che spesso vengono bypassati durante un itinerario del sud-est e questo è sud-est ma vengono bypassati per mere questioni di tempo normalmente l'itinerario classico prevede delle notti a città del Messico e poi volare verso il Chiapas beh questo è un itinerario totalmente alternativo per chi magari ha già fatto quell'itinerario classico quindi città del Messico Chiapas Yucatan e Riviera Maya e invece questo si concentra in tutto quello che i passeggeri in questo caso hanno perso ed è veramente tanto anche questo è un itinerario che sviluppiamo come prezzo su base a quattro passeggeri ma è possibile anche farlo con due soli passeggeri ovviamente pagando qualcosina in più si arriva si parte anzi da città del Messico con il suo straordinario centro-istorico con il Palacio de Bellas Artes la piazza più grande del Messico per lo Socalo e il Palacio del Governo con i murales di Diego Rivera che naturalmente non possono mancare come non può mancare la visita dell'imprescindibile Museo Nazionale di Antropologia che è quello che ci spiega concretamente proprio di piccole pietre tutto quello che andremo a vedere nel corso del nostro viaggio è una delle tappe più importanti e ripeto imprescindibili di un viaggio in Messico questo non è un museo un tempio io almeno l'ho sempre ritenuto così e l'ho visitato almeno una decina di volte si completa la visita alla città con il barrio de Coyacan che prima era una città separata ma poi è stata inglobata dallo sviluppo del monstro del mostro di città del Messico una città di oltre 20 milioni di abitanti ed è la parte più a sud totalmente diversa dal resto della città coloniale pueblo vero e proprio e naturalmente la zona che offre la straordinaria ricchezza visiva e la complessità del racconto di vita di Firdacalo di Diego Rivera della loro casa di tutto quello che si trascina insieme a questi due incredibili personaggi che sono tra i più importanti della storia moderna non solo del Messico ma proprio della storia moderna poi si va naturalmente a visitare Teotihuacan uno dei siti archeologici più rilevanti di tutto il Messico a poca distanza dalla capitale e poi si parte verso sud sud est appunto si visita il pueblo di Ciolula che è dietro questo mostruoso vulcano che si chiama Popo Catepetl o il Popo se si vuol far prima tuttora attivissimo come vedete nella fumarola lì della foto e quella la chiesa di Ciolula eretta proprio in cima a questo serro il serro è nel corso dei secoli è nata tutta questa vegetazione sopra il basamento della più grande piramide precolombiana mai costruita e si visita proprio tutto quanto addirittura all'interno parzialmente l'interno della piramide per poi poca distanza arrivare nella magnifica Puebla la città coloniale fondata nel 1531 una delle città coloniali più affascinanti di tutto il Messico patrimonio ovviamente dell'umanità unesco nemmeno a dirlo con la sua cattedrale di roccia tuffica all'interno e lì suoi il puente dei Bubas le Bubas sono questi condotte sotterranee che Michela ha esplorato proprio aprile e maggio di quest'anno seguendo il proprio corso che vennero costruiti dagli spagnoli per governare per avere delle condotte sotterranee e governare le varie zone e anche avere una via di fuga in eventuali attacchi dei nativi delle etnie precolombiane che spesso effettivamente succedevano ecco Puebla è una delle città più importanti dal punto di vista storico del Messico sia per quanto riguarda l'evoluzione messicana del 1910 ma soprattutto per la grande storica fantasmagorica battaglia del Cinco de Mayo in cui i messicani sconfissero le realtà imperiali asburgiche e quindi è una delle date più importanti della storia del Messico di fatti il Cinco de Mayo è festa nazionale e si festeggia non soltanto in Messico ma anche e soprattutto nelle comunità messicane un po' in giro per il mondo tipo Stati Uniti e Canada il Puebla del Virrainato è appunto la Puebla del Viceré che offre ben 2600 edifici storici soltanto per visitare i più importanti ci dovrebbe stare tre giorni nella città di Puebla per esempio il Palazzo del Governo dello Stato e tantissime delle sue chiese le chiese sono innumerevoli non abbiamo spazio per numerare posso dirvi che la Puebla culturale offre più di 20 musei in cui c'è di tutto come vedete in questa foto dalle auto agli aerei storici ma soprattutto la musica per esempio ma soprattutto architettura arte e il barocco messicano quindi tutta l'arte e l'architettura nata dalla conquista in poi ecco questo qui è il museo sicuramente più rilevante e più importante di tutto Puebla una costruzione modernissima aperta nel 2013 e progettata da un grande architetto giapponese che contiene tutto lo scibile umano del barocco messicano Michela l'ha visitato appunto nel corso della sua ultima visita in città ed è rimasta veramente folgorata non solo da cosa viene esposto e cosa contiene ma anche dalla avveniristica architettura esterna Puebla e lo stato di Puebla è lo stato dei Pueblos Machicos è uno dei pochi stati che offre tantissimi Pueblos Machicos in questo caso ne parliamo ben nove i Pueblos Machicos sono una idea di una concezione di turismo proprio fondata sulla tradizione e sulla bellezza assoluta di questi piccoli villaggi in cui la messicanità si vive e si respira quotidianamente non solo dal turista ma anche da chi ha la fortuna di vivere in questi luoghi beh una delle principali attrattive della cultura poblana è la sua gastronomia il mole poblano la foto che vedete qui a destra in alto creato con parti di cacao è una ricetta creata dalle suore durante il virrainato e che si è tramandata ed è una delle cose più tipiche che si possono assaggiare come il cile ennogata quest'altra foto grande che trovate il cile appunto il peverone annegato nelle varie spezie sono le corne assolute una gastronomia varia molto varia che può piacere a tutti adesso a questo punto credo che facciamo vedere il video il video Grazie a tutti. 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 Si visita una finca di caffè e si dorme o vicino o nella finca di caffè, si scopre tutto il sistema di lavorazione e il procedimento e si assaggia questo inebriante sapore di caffè. Grazie a tutti. 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 con questo. Grazie a tutti. 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 a tutti. e... Grazie a tutti. e... 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 Grazie a tutti. e... 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 e...